E allora subito in diretta vediamo il leader dei 5 Stelle Beppe Grillo, sentiamolo che cosa dice da Siena. Vinceremo le elezioni anticipate, ci prenderemo il Paese in macerie e finalmente con questa gente mandata a casa con previo prima di mandarli a casa una bella verifica fiscale su di loro, sulle loro fondazioni, sugli immobili, sui conti correnti. Tiriamo fuori tutti i soldi e poi le prime cose che faremo lo sapete, via i rimborsi, via i rimborsi, i giornalisti ve l'ho detto cosa facciamo, togliamo l'ordine, via i rimborsi agli editori, cominciamo redditi di cittadinanza, piccola media imprendita, defiscalizzazione immediata. I soldi li prendiamo dall'Afghanistan, li prendiamo dalle guerre, dagli F-35, ti posso massacrare l'informazione. Si fermi un attimo Grillo, si fa uscire. No, no, io non posso fermare. No, allora avanti. Non posso fermare, avanti. Abbiamo ascoltato in diretta le prime dichiarazioni di Beppe Grillo al termine dell'Assemblea dei Soci del Monte dei Paschi di Sieni, alla quale il leader di Cinque Stelle ha voluto partecipare. Sentiamo. Secondo te il Parlamento è come era prima che c'eravamo noi? Secondo te? Quindi avete già vinto. Secondo te si parla di stipendi, si parla di tali, perché il nostro programma viene citato in televisione, che è il nostro programma? Come mai li poniamo nella condizione di dover fare il nostro programma, ma non riescono a farlo. Però il passaggio è quello degli europei. Assolutamente, se vinciamo l'Europa cambiamo l'Italia, immediatamente. Il secondo giorno che abbiamo vinto è già cambiata l'Italia. Attento, 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 attento al macchino, macchino dietro, attento a trappoli, trappoli, una moto, un quadrino, una moto, un quadrino. Vieni, vieni, c'è Modrino. Ecco, abbiamo visto Beppe Grillo, inseguito dai giornalisti e anche dal nostro inviato Gabriele Martelloni, che gli ha rivolto qualche domanda. Sono le primissime dichiarazioni di Beppe Grillo al termine dell'Assemblea del Monte dei Paschi. Proviamo a sentire Gabriele Martelloni, se ci sente. Gabriele. Ecco, è il momento in cui Beppe Grillo lascia il Monte dei Paschi di Siena. Ecco, si è allontanato in questo momento. Abbiamo visto dunque le immagini, abbiamo sentito le sue dichiarazioni. Grazie. Grazie.